Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Quando si è giovani e inesperti, davanti ai rischi e alle brutture del mondo, accettare un passaggio da uno sconosciuto può sembrare un atto insignificante, che però potrebbe trasformarsi in un incubo senza preavviso. Abigail Hernandez, detta Abby, nasce il 12 ottobre 1998 a Manchester, nel New Hampshire, dove vive con sua madre Zenia e sua sorella maggiore Sara, ma non con suo padre Ruben, perché i genitori sono divorziati. È una bambina gentile, gioiosa e dolce. Ama gli animali e il rock classico. Inoltre, lei e sua madre Zenia sono entrambe molto atletiche, adorano fare escursioni insieme e Abby pratica anche diversi sport a scuola. Quando Abby ha 14 anni, inizia le superiori alla Kenneth High School a North Conway, dove studia tedesco e robotica, articolata in un programma che integra scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Sono tutte materie che le piacciono molto. Abby si sposta tra casa e scuola a piedi ogni giorno e il 9 ottobre 2013 per lei dovrebbe essere una giornata come tutte le altre. È andata al liceo sulle sue gambe e allo stesso modo si avvia sulla strada di ritorno quando le lezioni finiscono. Infatti, la vede anche il bibliotecario mentre lascia l'istituto alle 14.30. Come accennato, l'adolescente e sua madre Zenia sono molto unite, si tengono in contatto costante e, se Abby fosse tornata a casa più tardi o fosse andata da un'amica, l'avrebbe di certo fatto sapere a sua mamma. Tuttavia, Zenia, che fa l'infermiera, il pomeriggio del 9 ottobre rincasa dopo il lavoro e si rende conto che Abby non è ancora rientrata. Zenia sospetta subito che ci sia qualcosa che non va, quindi manda un messaggio a sua figlia chiedendole dove sia, ma non riceve risposta. Anche questo è molto strano, non è da Abby ignorare chi la contatta, quindi sua madre si preoccupa ancora di più, ma prova a non farsi prendere dal panico pensando all'ipotesi peggiore. Piuttosto cerca di convincersi che sua figlia possa aver dimenticato il telefono, oppure che abbia perso la cognizione del tempo chiacchierando con gli amici dopo le lezioni. Zenia, quindi, sale in macchina e si reca a scuola per vedere se Abby si trovi lì. Quando arriva, riesce a parlare con il bibliotecario che, come anticipato, le riferisce di averla vista lasciare la scuola alle 14.30. Quindi Zenia ha la certezza che Abby si è allontanata dall'istituto e teme che possa essersi ferita durante il tragitto, che abbia avuto un infortunio. Forse è scivolata e si è rotta una gamba, oppure, peggio ancora, è stata investita da un'auto. Zenia, allarmata, decide di chiamare gli ospedali locali, ma nessuno ha notizie di Abby. Zenia ormai è preda dell'agitazione. Così, dopo diverse ore di angosciante ricerca, intorno alle 19 di quello stesso giorno, chiama la polizia per denunciare la scomparsa di sua figlia. La polizia, come al solito, cerca di capire se Abby si è scappata, ma Zenia sa che non può essere accaduto. Sua figlia non era mai fuggita e non ne aveva motivi. Nella sua famiglia non c'erano problemi seri e nel comportamento della ragazza non erano emersi cambiamenti significativi. Inoltre, mancano appena tre giorni al quindicesimo compleanno di Abby e stavano già organizzando una grande festa con gli amici, quindi Zenia sa che sua figlia non si è allontanata volontariamente. Quando la polizia avvia le indagini, va a parlare con diversi testimoni che hanno visto Abby lasciare la scuola quel giorno e anche camminare sul campo da hockey, per poi svoltare in un sentiero che segue la linea elettrica vicino alla scuola tra le 14.30 e le 14.35. Lungo questo percorso Abby ha inviato dei messaggi al suo fidanzato, un adolescente di nome Jimmy. L'ultimo messaggio che gli ha mandato risale alle 14.53 e consiste nell'emoji di un cuore. La polizia riesce a rintracciare il telefono di Abby e scopre che alle 15.07 il segnale scompare, a circa un miglio di distanza dalla casa della ragazza. Gli abitanti della comunità iniziano a farsi delle domande. Forse nella vita di Abby c'è qualcosa di misterioso che l'ha portata a scappare? Forse ha problemi di salute mentale di cui nessuno è a conoscenza? Beh, così non sembra. Infatti i suoi amici sostengono che Abby era spiritosa e allegra il giorno della sua scomparsa. Nessuna delle persone a lei vicine ha avuto l'impressione che qualcosa non andasse. Dunque sono soltanto gli altri residenti del quartiere a fare queste ipotesi infondate perché non conoscono poi così bene Abby. La vedono spesso in giro e lei li saluta sempre con cordialità e gentilezza, ma niente di più. La polizia esamina anche lo scambio di messaggi tra Abby e il suo ragazzo, risalendo fino all'inizio della loro storia. Forse tra loro c'erano problemi non noti? In effetti si scopre che la loro relazione è contaminata dalla gelosia. E questo fa supporre agli investigatori che Jimmy possa aver fatto del male ad Abby. Nei mesi successivi, mentre della ragazza non si hanno ancora notizie, gli investigatori tengono d'occhio tutte le persone che fanno parte della sua cerchia ristretta di conoscenze. Oltre al suo ragazzo, quindi, controllano anche i suoi familiari, i suoi amici e i suoi compagni di classe, per poi interrogare chiunque avesse a che fare con Abby. Tuttavia non ci sono sviluppi, non risulta che nessuno di coloro che le stavano intorno sia coinvolto nella sua sparizione. Gli detecti chiaramente controllano anche la posizione di tutte le persone che Abby conosceva al momento della sua scomparsa e verificano gli alibi che hanno fornito, che dopo l'analisi risultano tutti validi. A questo punto sembra davvero che Abby sia scomparsa nel nulla senza lasciare traccia. Gli agenti recuperano anche un video di sorveglianza della scuola che mostra Abby, mentre sta andando via e osservando con attenzione, notano che lei non aveva con sé sufficienti effetti personali da giustificare il sospetto di una fuga. Di certo Abby non intendeva stare via per un lungo periodo di tempo. Controllano anche il suo conto corrente e non si rileva nessuna attività, ulteriore elemento che non combaccerebbe con il suo presunto desiderio di scappare e di farsi una nuova vita lontano dalla famiglia. Intanto Zenia, la mamma di Abby, durante i mesi successivi alla scomparsa di sua figlia, la cerca instancabilmente. Anche chi non è madre può immaginare il suo dolore. Zenia spesso ripercorre ogni passo che secondo lei aveva percorso sua figlia. A volte attraversa quella strada a piedi, altre volte in macchina per poi guidare in giro per il quartiere alla ricerca di indizi. Zenia non si arrende, fa tutto il possibile per cercare di rintracciare la figlia, ma è sempre più disperata. Il 5 novembre è Ruben, il padre di Abby, a scrivere su Facebook una lettera a sua figlia, con scritto Mia carissima Abby, non sappiamo se sei scappata, ma se lo hai fatto è importante che tu sappia, tesoro, che nessuno è arrabbiato con te, che tu non sei e non sarai nei guai. Ho bisogno solo di sapere che stai bene. Ho molta paura che tu sia là fuori, al freddo, perché non so se hai una giacca. Ho anche paura che non mangi. Spero e prego che tu sia al sicuro, al caldo e che tu stia mangiando. Per favore, tesoro, se puoi, trova un modo per far sapere a tutti che stai bene. Potresti pubblicare il tuo passo biblico preferito, libro, capitolo e versetto, e quello che hai utilizzato anche come password. Puoi pubblicarlo su Facebook, Twitter, inviarlo tramite SMS o come preferisci. Oppure puoi telefonare a qualcuno di cui ti fidi, puoi telefonare al Dipartimento di Polizia di Conway, oppure puoi chiamare il Dipartimento di Polizia di Jackson. Poi riporta nel post tutti i contatti e prosegui così. Fa lo stesso se qualcuno risponde a voce alla tua chiamata o se lascia un messaggio in segreteria. Se non vuoi dire nulla, riporta semplicemente il passo delle scritture bibliche e io saprò che stai bene. Se non vuoi farlo da sola, forse puoi chiedere a qualcuno di farlo per te. O usa qualsiasi modo desideri. Non importa come ci contatti, ma per favore, tesoro, trova un modo per farci sapere che stai bene. Probabilmente non hai previsto tutta l'attenzione dei media che stai ricevendo e comprendiamo che possa essere opprimente e che ti spaventi un po'. Ma ti prometto che farò del mio meglio per tenere i media lontani da te e nessuno ti metterà in imbarazzo. Qualunque sia il motivo che potrebbe averti spinto a scappare, sai nel profondo del tuo cuore che puoi sempre venire da me, come hai fatto in passato, e possiamo risolvere la cosa, non importa cosa sia. Per favore, sappi che sto pregando e confido in Dio e nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, affinché veglino su di te e ti riportino sana e salva da noi. E spero che anche tu possa confidare sempre nella preghiera e avere fede. Per favore, sii forte, tesoro. Nell'ultima lettera che mi hai scritto concludevi dicendo, ti amo tantissimo, tantissimo, tantissimo e sarai sempre il mio papà. Ebbene, tesoro, lasciami dire che anche io ti amo tantissimo, tantissimo, tantissimo e che sarai sempre mia figlia. Con amore, papà. Il 6 novembre del 2013, Zenia apre la cassetta della posta come tutte le mattine, ma stavolta trova una lettera di Abby. La lettera reca un timbro postale con la data del 23 ottobre, quindi era stata spedita dieci giorni dopo la sua scomparsa. Quando apre la lettera e la legge, Zenia è certa, in base alla calligrafia che l'ha scritta sua figlia. Gli investigatori poi lo confermano, non soltanto analizzando la calligrafia, ma anche effettuando ulteriori test grazie ai quali rilevano il suo DNA sulla lettera. Tuttavia, Zenia è preoccupata, sospetta che la lettera non sia opera di Abby, nonostante l'abbia manualmente scritta lei, perché il suo contenuto le suscita uno strano presentimento. Forse qualcun altro l'aveva costretta a scriverla. Nella lettera si legge Sono arrivata a capire che, insieme all'amore e al coraggio, la speranza può parlare più forte della paura. Per favore, non perdere la speranza. Resisti per me, mamma. Ho fatto un sogno in cui tornavo a casa e ti davo il più grande abbraccio di sempre. Non so se sia importante, ma mi piace pensare che lo sia. Per favore, non dimenticare che ti voglio bene. Abbraccia Sara da parte mia e dile che la amo e che mi manca moltissimo. Prego che i suoi sogni diventino realtà. Con amore, Abby. Purtroppo la polizia non è in grado di stabilire da dove provenga il timbro postale della lettera. Inoltre non capisce perché ha impiegato due settimane per arrivare a destinazione. Gli investigatori non sanno se Abby aveva scritto quella lettera pressata da un eventuale rapitore o se era stata una sua spontanea volontà. In tal caso, non sanno se l'aveva scritta di nascosto ed era riuscita a spedirla in prima persona. La polizia sceglie di non rilasciare al pubblico questa lettera per almeno un mese e di tenerla segreta. Questo perché se Abby l'aveva scritta di nascosto, il suo rapitore avrebbe potuto scoprirlo e vendicarsi, facendole del male. Poi, trascorso questo mese senza che si delineassero nuove piste da seguire, la polizia diffonde la lettera presso il pubblico. Una scelta che genera spiacevoli conseguenze che né gli agenti né la famiglia di Abby avevano previsto. Molti abitanti della comunità, infatti, interpretano le parole scritte dalla ragazza come una confessione che confermerebbe che lei era scappata e che vuole continuare a nascondersi. Queste persone ora accusano la famiglia di Abby di aver simulato un rapimento. Dicono che, in verità, sono tutti coinvolti. Quindi pretendono che i parenti dell'adolescente restituiscano i soldi che la polizia finora ha speso per cercarla. Immaginate questi individui che vivono nello stesso quartiere di Abby e che si scagliano furiosi contro la famiglia. Tuttavia non riescono a influenzare coloro che erano davvero vicini alla ragazzina e che sanno che lei non è scappata. La madre di Abby, come accennato, è sicura dal modo in cui è scritta quella lettera che l'autrice non è sua figlia, quindi non aveva scelto le parole da usare di sua spontanea volontà. Per fortuna la polizia concorda con quanto sostiene la famiglia di Abby. La ragazza è stata rapita. Anche i detective hanno studiato a lungo quella lettera e non si lasciano condizionare da ciò che pensa l'opinione pubblica. Dunque continuano le indagini sulla sua scomparsa, trattando il suo caso come un rapimento. Dopo aver ricevuto la lettera, Zenia si rivolge ai media per lanciare un appello. Implora a chiunque abbia con sé sua figlia di liberarla e, rispondendo anche alla lettera di Abby, la supplica di tornare a casa. Scrive che le manca tanto, che la ama e che vorrebbe rivederla per Natale. In un'altra lettera data 22 novembre scrive «Fara Abby, credo tu sia là fuori a guardarmi e ad ascoltarmi in questo momento. Mi manchi e ti amo più di quanto tu possa immaginare. Avverto la tua assenza ogni giorno. Il tuo posto è a casa con me. Abby, sei una giovane donna forte e sarò forte per te. Sei coraggiosa, sei intelligente e sei bellissima. Abby, sei importante per me. Credo tu sia viva e so che la speranza parla più forte della paura. Spero che tu possa raggiungermi. Sento la tua mancanza ogni giorno e ti voglio a casa con me. Farò qualsiasi cosa in mio potere per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, Abby. Continuo a fare un sogno in cui torni a casa e ti do il più grande abbraccio di sempre. So, nel mio cuore, che questo significa qualcosa di importante. Prego Dio che si avveri. Con amore, mamma». Nei mesi seguenti la polizia trascorre ore e ore a cercare Abby. Per lustra a piedi i boschi intorno alla stazione scistica di Cranmore e alle aree circostanti. Conduce delle ricerche sul terreno montuoso dall'alto utilizzando degli elicotteri. Ma purtroppo le indagini non danno esito positivo. Poi, dopo aver cercato instancabilmente Abby per ben nove mesi senza ottenere risultati, si verifica una svolta degli eventi davvero in attesa. Il 20 luglio 2014, la ragazza torna a casa. Appena mette piede nella sua abitazione, la prima parola che pronuncia è «Mamma». Sua madre si volta, la vede in piedi davanti alla porta e le corre incontro, abbracciandola fortissimo. Zenia capisce subito che Abby ha vissuto qualcosa di orribile. È pallida, ha perso tantissimo peso. Il suo aspetto è chiaramente stravolto dallo stress. Siccome poco dopo la scomparsa di Abby, la sua famiglia aveva installato un sistema di videosorveglianza all'esterno della casa, una telecamera ha ripreso la ragazza mentre rimetteva piede nell'abitazione. Ora devono contattare le autorità e spiegare cosa è realmente successo. Abby deve affrontare questo momento molto difficile e rivivere i suoi traumi raccontando alla polizia ciò che le è capitato in questi mesi. Occorrono diversi incontri affinché l'adolescente riesca a ripercorrere tutto quello che ha vissuto. Abby rivela di essere stata rapita e tenuta segregata in un capannone dove è stata maltrattata, anzi, torta per nove mesi di fila. Nel pomeriggio del 9 ottobre 2013, Abby stava tornando a casa da scuola, come già ho detto in precedenza. Indossava degli stivali nuovi che erano molto rigidi e quindi le facevano mal i piedi. Durante lo scomodo tragitto, un uomo a bordo di un camioncino si era fermato accanto a lei e le aveva offerto un passaggio a casa. Sui piedi di Abby si erano addirittura formate delle vesciche che le causavano parecchio dolore. Lei voleva solo riposarsi un po', con la consapevolezza di essere a circa un miglio di distanza da casa, quindi non pensava fosse rischioso accettare un così breve passaggio da un uomo sconosciuto. Abby quindi era salita sulla vettura con quest'uomo che aveva rimesso in moto il camioncino. Poco dopo lui le aveva chiesto se poteva fermarsi un attimo da The Home Depot, il più grande rivenditore statunitense di attrezzature e prodotti per la casa, prima di portarla a destinazione. Abby allora gli aveva risposto che lei avrebbe potuto tranquillamente proseguire a piedi verso casa partendo dal negozio, ma quando si era girata a guardare l'uomo si era resa conto che le stava puntando contro una pistola. Lui l'ha minacciata e le avrebbe tagliato la gola e fatto saltare il cervello se avesse provato a scappare. Abby aveva intuito che doveva cercare di andare d'accordo con il suo rapitore. nella speranza che così non le avrebbe fatto del male. Gli aveva promesso che si sarebbe comportata bene, che se l'avesse lasciata andare lei non l'avrebbe detto a nessuno, non l'avrebbe messo nei guai. Mentre Abby stava provando a scrivere un messaggio, il suo rapitore l'aveva ammanettata, le aveva infilato una maglietta sopra la testa. Infine le aveva rotto il cellulare per impedire che venissero rintracciati. Abby aveva provato a sbirciare dal finestrino del camioncino per capire dove fossero diretti, ma l'uomo se ne era accorto e l'aveva colpita con una pistola stordente. Durante il viaggio il rapitore aveva chiesto più volte ad Abby se il taser le facesse male, continuando a colpirla con la pistola stordente ancora e ancora. Dopo aver guidato per circa un'ora, aveva fermato il camioncino. Erano arrivati nei pressi di una casa nel comune di Gorham e il rapitore aveva costretto Abby a entrare in un piccolo capannone senza finestre di sua proprietà. Durante il primo giorno di prigionia l'uomo le aveva coperto gli occhi con del nastro adesivo e una maglietta. Poi le aveva messo anche un casco da musiciclista sulla testa. Le aveva legato mani e piedi e si era approfittato di lei. Abby purtroppo vive questa brutale situazione ogni giorno in tutta la durata della sua prigionia. Per ben nove mesi Abby ha subito casi feroci e costanti. Le sue mani e le sue caviglie erano costantemente legate da alcune fascette stringicavo, strette così tanto che gli avevano lasciato le cicatrici sia sui polsi che sulle caviglie e che sul momento le facevano perdere la sensibilità delle dita e dei palmi delle mani. A un certo punto l'uomo aveva comprato un collare elettrico con cui sostituire le dolorose fascette. glielo aveva messo al collo e le aveva detto «Ok, prova a urlare». Abby aveva obbedito alzando la voce lentamente e il collare le aveva provocato una scossa elettrica. Ecco come le avrebbe impedito di gridare e ribellarsi. Il rapitore si era rifiutato di dirle il suo nome esigendo che Abby lo chiamasse «Maestro». Abby all'interno di quel capannone veniva sorvegliata da una telecamera di sicurezza e durante quei nove mesi non ha mai preso una boccata d'aria fresca, né visto la luce del sole. Era bloccata lì dentro con il suo rapitore che aveva aggiunto un nuovo strumento di tortura al suo set, una catena che imprigionava il collo di Abby impedendole di muoversi e di opporsi quando lui si approfittava di lei. L'aveva addirittura costretta a indossare un pannolone e le aveva infilato un tubo in bocca collegato a uno strano dispositivo. Se Abby voleva bere doveva premere la levetta, allora l'acqua le gocciolava ripetutamente nella bocca. Come immaginabile, il sequestratore aveva minacciato di uccidere la sua famiglia e i suoi animali domestici se Abby fosse scappata. Mentre era bloccata in quel capanno degli orrori, la ragazza e il suo rapitore seguivano le notizie sulla scomparsa di Abby. Lei doveva sedersi e guardare sua madre mentre la implorava di tornare a casa. Probabilmente aveva scoperto che molte persone sostenevano che lei era scappata e che i suoi familiari avevano elaborato questo assurdo piano fingendo il rapimento. Immagino cosa la povera Abby potesse provare in questi attimi. Per il suo sequestratore invece queste notizie erano ottime, infatti faceva assistere Abby soddisfatto ricordandole che nessuno credeva alla storia del rapimento. Dunque per un periodo la ragazza aveva pensato che nessuno tranne sua mamma la stesse cercando. Per rimanere in vita Abby aveva dovuto conquistare la fiducia del suo rapitore. Afferma che durante la prigionia aveva pregato ogni giorno e non aveva mai perso la speranza di sopravvivere. Questo era il suo unico obiettivo e lo aveva raggiunto imporando a conoscere il sequestratore e a sembrargli leale. Anche il rapitore voleva che lei si fidasse di lui, desiderava creare un legame con lei per questo e le aveva permesso di leggere uno dei libri che teneva in casa che conteneva delle ricette. Così Abby aveva scoperto il suo nome, dato che era scritto su questo libro di cucina in una delle prime pagine. Il rapitore se n'era dimenticato, aveva sempre evitato di rivelare all'ostaggio come si chiamava, ma ora lei lo sapeva, Nate Kibbe. Per quei lunghissimi nove mesi Abby aveva secondato Nate, fingendo di essersi affezionata a lui. Nate allora le aveva permesso di scrivere quella lettera a sua madre, tuttavia le aveva imposto di dare l'idea che lei fosse scappata di casa. Abby l'aveva secondato, ma aveva anche rimarcato con l'unghia la parola aiuto sul foglio. Una mossa astuta che poteva dare buoni frutti, ma purtroppo Nate se n'era accorto e l'aveva picchiata brutalmente. Poi l'aveva obbligata a riscrivere la lettera, pronto a controllarla scrupolosamente. Siccome stavolta Abby non aveva lasciato alcun messaggio in codice, la lettera era stata inviata. Nate era arrivato anche al punto di chiedere aiuto ad Abby, spiegandole che stava conducendo un'operazione di contraffazione di denaro e lei aveva accettato di collaborare. Il suo unico obiettivo era convincere Nate che lei volesse stare lì con lui. I due quindi avevano iniziato a guadagnare denaro contraffatto e da quel momento Nate aveva inquadrato Abby come la sua compagna. Nate aveva anche assunto una prostituta e l'aveva pagata con il denaro contraffatto, ma lei poi l'aveva chiamato per dirgli che era appena stata arrestata per aver usato i soldi che lui gli aveva dato in un Walmart della zona e aveva raccontato tutto alla polizia. La donna era arrabbiata, ma gli aveva detto di fare attenzione a quello che stava facendo nel capannone perché la polizia presto sarebbe andata a perquisirgli la casa. Lei non sapeva che Nate stava tenendo prigioniera un adolescente, ma che stava fabbricando soldi falsi lì dentro. Nate, parecchio spaventato dall'eventualità che arrivasse la polizia, la sera del 20 luglio 2014 aveva detto ad Abby che doveva sbarazzarsi di tutto, compresa lei. Era convinto di aver terrorizzato la ragazzina al punto di convincerla a non denunciarlo, cosa che le aveva anche fatto promettere e lui ci aveva creduto. Quella sera aveva fatto salire Abby nella sua macchina e l'aveva portata in una strada isolata a North Conway. Quando Abby era scesa dall'auto si era sentita sollevata. Percepiva finalmente l'odore dell'aria fresca ed era felice di essere libera, di non essere in catene. Aveva percorso un miglio a piedi fino ad arrivare a casa di sua madre ed entrare dalla porta principale. Abby quindi ora è finalmente a casa. Ma nei giorni successivi è davvero spaventata l'idea di dover fornire alla polizia l'identità del suo rapitore. Inizialmente riferisce che lui era un uomo corpulento, con una carnagione più scura della sua e un accento del Massachusetts. Ma poi Zegna spiega alla polizia che Abby non è stata sincera. Abby infatti aveva confidato a sua mamma che conosceva il nome del sequestratore. Sa che le forze dell'ordine sarebbero in grado di identificare lui e la sua posizione se avesse rivelato il suo nome. Ma è spaventata. Dopo circa una settimana dal rientro a casa Abby decide di rivolgersi alla polizia rivelando che l'aveva rapita Nate Kibbe. Descrive l'aspetto della sua abitazione e l'interno del capannone. Le vengono mostrate le foto di otto uomini, incluso Nate Kibbe, e lei lo identifica immediatamente. È sicura? Allora la polizia può provare a rintracciarlo. E ci riesce. Nate, il cui nome completo è Nathaniel, deve affrontare 205 accuse diverse tra cui rapimento, violenza intima, rapina criminale e minaccia di uso illegale di armi. La sua cauzione viene fissata per un milione di dollari ma non riesce a pagarla quindi aspetta in prigione per due anni mentre tenta di giungere a un accordo con i pubblici ministeri. Alla fine Nathaniel si dichiara colpevole di sette reati tra cui violenza intima aggravata, rapimento, monomissione dei testimoni e minacce criminali. Durante l'udienza di condanna Abby raccoglie tutte le sue forze per affrontare Nate. Rilascia una dichiarazione sull'impatto che ciò che le ha fatto ha avuto sulla sua esistenza e dentro di lei. Abby in realtà ringrazia Nate per averla lasciata andare ma gli spiega chiaramente quanto le sue azioni abbiano influenzato negativamente la sua vita. Nathaniel Kibby viene condannato per un minimo di 45 anni e per un massimo di 90 anni. Io onestamente spero che non esca mai di prigione. Abby fortunatamente è riuscita ad andare avanti con la sua vita, lavora come parrucchiera e ha un figlio piccolo. Il suo caso ha ispirato un film e Abby ha lavorato con la troupe cinematografica durante le riprese. Ha detto che è stato davvero difficile rivivere con la mente il periodo peggiore della sua vita, ma è anche stato terapeutico per lei rendere nota la sua storia, mostrando al mondo che mostro fosse il suo rapitore. Quando mi imbatto in storie come queste, sento sempre il bisogno di condividerle con voi. È davvero una gioia per me raccontarvi di casi in cui la vittima sopravvive nonostante le atrocità ingiuste subite. Come detto, Abby oggi è una donna che vive serenamente la sua vita. A soli 15 anni ha dimostrato di avere una resilienza e una forza. Incredibili. Io ho finito di parlare di questo caso e come vi ho già detto per me è davvero una gioia poter condividere con voi queste storie. Purtroppo di storie come queste ne abbiamo già viste alcune simili. Mi viene in mente ad esempio John Gemelsky, che ha rapito e tenute prigioniere delle donne per poi lasciarle andare dopo un tot di tempo. Non so che fine avrebbe fatto Abby se non fosse accaduta quella cosa con i soldi contraffatti, insomma. Però tutto è bene quel che finisce bene, insomma. L'ultimo mio pensiero ovviamente va a Abby e sono davvero molto contenta che sia riuscita a riprendere in mano la sua vita e ad andare avanti nel miglior modo possibile. Ovviamente ora sono curiosa di sapere anche la vostra opinione, quindi scrivetemi quello che volete nei commenti, quello che ne pensate di questo caso e come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!